Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, nuovamente a parlare di questo straordinario libro, di questo eccezionale libro intitolato La strada della vittoria, scritto da Richard Overy, perché gli alleati hanno vinto la seconda guerra mondiale. Un libro che, come ho detto più volte da che l'ho acquistato, è diventato uno dei testi più importanti nell'armamentario che vedete qua dietro le mie spalle, la mia famosa disordinata libreria. Ah, signori, questa sera, autentica rarità, indosso la maglietta da allenatore della squadra di soccer dello Utah Arsenal, quindi, insomma, autentica chic. Va bene, allora, signori, in questo libro, dicevo, oltre alle cause della vittoria alleata nella seconda guerra mondiale, viene spiegato alla fine del libro come si sia sviluppata la guerra fredda e soprattutto perché gli sconfitti hanno, come dire, sono riusciti a vincere a livello economico ma uno dei vincitori è rimasto travolto dalla sua vittoria e si è rivelato incapace di approfittare dei frutti della vittoria durante la seconda guerra mondiale. Overy, nel suo stile secco, asciutto ed estremamente chiaro, ci spiega il perché del fallimento dell'Unione Sovietica. Allora, sentite un po' qua. Allora, l'America nel 1945 era un paese ricco e ottimista. La finestra verso l'Occidente, chiusa negli anni della depressione, dall'isolazionismo americano e dalla crisi economica, ora era aperta e invitante. Un futuro ministro degli esteri giapponesi, Saburo Okita, ricordava come, arrivata al fondo di una sconfitta disastrosa, la gente pensasse. Adesso, verse in cattive condizioni ma col tempo il Giappone si rimetterà in piedi, non con la forza delle armi ma con le nuove tecnologie e la potenza economica. E oserei dire che il signor Okita non aveva assolutamente tutti i torti. La nuova costituzione giapponese comprendeva l'articolo 9 con cui rinunciava per sempre alla guerra come mezzo per risolvere le contese. Quando nel 1949 fu creata la Germania occidentale, la Costituzione proibiva al suo esercito di operare al di fuori dei confini nazionali. Le forze armate tedesche ricostruite con il consenso degli alleati alla metà degli anni 50 avevano finalità esclusivamente difensive. La guerra fredda, e qui veniamo al punto di questa ricostruzione, accelerò il riallineamento dei paesi dell'asse col nemico di una volta. C'era indubbiamente più di un aspetto paradossale nel fatto che le popolazioni tedesche e italiane si ritrovassero a confrontarsi di nuovo col colosso sovietico combattuto in guerra, ma questa volta al fianco di Inghilterra e Stati Uniti. Tuttavia, agli inizi degli anni 50, al tempo della guerra di Corea, il primo serio scontro tra Est e Ovest dopo la guerra, l'America sentì la necessità di realizzare una solida alleanza militare in Europa per tenere a bada l'Unione sovietica, cui era essenziale la partecipazione di Germania e Italia. Inoltre aveva anch'essa bisogno del potenziale industriale di questi due stati per alimentare l'escalation della guerra in Corea. Nel corso degli anni 50 le residue e restrizioni all'espansione industriale dell'economia dell'asse furono eliminate e le popolazioni di quei paesi si lanciarono verso quella crescita economica che avevano atteso per una generazione. Come ebbe a dire un osservatore tedesco del 1960, il punto di vista americano si affida all'entusiasmo per un livello di vita migliore. Chi riesce a immaginare che al più presto anche lui potrà permettersi una moto o una Volkswagen non sognerà più quel giorno in cui ci sarà un posto disponibile come piccolo funzionario nazista in Asia centrale. La lotta per il successo economico aveva anche altre ragioni. Nessuno degli ex paesi dell'asse poteva realisticamente pensare di migliorare la propria condizione riesumando le ambizioni territoriali dell'epoca prebellica. Ora che militarismo e razzismo avevano perso ogni attrattiva le elite sociali si orientarono verso strade più tradizionali per arricchirsi e avere successo. Quest'ultima considerazione pone la questione di come società che avevano fallito così miseramente nell'impresa bellica potessero avere un successo così travolgente nella competizione economica. Indubbiamente la concentrazione delle energie nazionali per il raggiungimento del benessere materiale doveva qualcosa alla scelta deliberata fatta negli anni dell'immediato dopoguerra di respingere le politiche fallimentari degli anni trenta e anche la guerra. La sconfitta aveva portato il sistema di valori morali e sociali in Germania e Giappone verso punti di riferimento totalmente nuovi. Erano state scelte attività razionali borghesi perché queste avevano dato dei risultati. La vittoria per Stati Uniti e Gran Bretagna nel 1945, il miracolo economico per Germania e Giappone e anche per l'Italia nei 50 anni successivi. Nel lungo periodo però il paese che più di ogni altro aveva contribuito alla sconfitta dell'asse, ovvero sia l'Unione Sovietica perché ricordatevi io ve lo dico spesso e volentieri, la guerra, la seconda guerra mondiale è stata vinta in ordine di importanza dal sangue sovietico, dal potenziale industriale americano e dall'acume tattico, terza cosa, e dall'intelligence britannica. Poco da dire e poco da fare signori. Allora, dicevo, l'Unione Sovietica risultò, nonostante la vittoria nella grande guerra patriottica, l'Unione Sovietica risultò essere il paese che aveva perso più di tutti. Il militarismo sopravvisse. Non ci fu alcun miracolo economico. La manifesta incapacità del comunismo di fornire quel che l'Occidente liberale era in grado di offrire, al di là della soffocante propaganda sul progresso socialista, finì per bloccare il sistema sovietico in un vicolo cieco. Il suo crollo dopo il 1989 non era in alcun senso qualche cosa di scontato, ma le scelte che erano state fatte dopo il 1945, come quelle dell'asse negli anni trenta, realizzarono un cerchio molto difficile da far quadrare. Il costo del mantenimento dello status di superpotenza e la corsa agli armamenti finirono per andare oltre la capacità del sistema di convincere la popolazione che il nuovo ordine comunista valeva quei costi. Il crollo dell'Unione Sovietica non fu dovuto direttamente alla vittoria del 1945. Troppa è la distanza temporale per affermarlo, ma la vittoria offrì una coppa di veleno. Il popolo russo non guadagnò né libertà né benessere, mentre i suoi sacrifici consentirono l'una e l'altra negli altri stati belligeranti. povera Russia. Mille anni di storia e nemmeno un giorno di libertà. Il fallimento, brevemente spiegato da overi con parole chiare e precise del sistema sovietico e del blocco comunista orientale dopo il 1989 con la fine della guerra fredda, viene spiegato brevissimamente e in maniera molto sintetica da overi, ma estremamente comprensibile. Insomma, signori, siamo sinceri. L'Unione Sovietica, i popoli dell'Unione Sovietica si fecero un mazzo tanto per garantire a noi occidentali libertà e democrazia e loro finirono cornuti e mazziati sotto il tallone di Stalin. che vedevo da dire? Perché se le politiche economiche, anche le politiche economiche di Germania, Italia e Giappone furono clamorosamente fallimentari perché portarono alla distruzione pressoché totale di quei paesi, sappiamo bene quali furono i danni e le sofferenze che patì l'Italia durante la guerra, sappiamo bene come era ridotto il Giappone dopo la fine della prima guerra mondiale. La Germania, come scrisse un pilota da caccia notturna della Luftwaffe, era soltanto un cumulo di cenere e sabbia. Però quei paesi si risollevarono, quei paesi guardarono avanti, quei paesi rinnegando. le fallimentari idee totalitarie degli anni 20, 30 e 40 riuscirono a rialzare la testa, riuscirono a conquistare quello che non erano quello che le dittature, i sistemi totalitari dei decenni precedenti non erano riusciti a garantire. Ovvero sia il benessere e la sicurezza economica per il benessere e la sicurezza economica per la nazione, per il popolo. Insomma, siamo sinceri, negli anni 50 e 60 l'Italia ebbe il momento più fulgido della propria storia, il cosiddetto boom economico, che poi il boom economico si fermò per l'incapacità della classe imprenditoriale italiana di guardare avanti, si è fermato per la straordinaria miopia di tutta, e sottolineo tutta, sottolineo tutta, la classe politica italiana che la Germania e il Giappone ora come ora se la passino un po' meglio di noi, questo è sicuramente vero, ma questo non è tanto colpa della congiuntura internazionale, La colpa, se vogliamo, è nella mentalità stessa degli italiani e sapete bene che certe cose non me le invento certo io. Bene, e Poveri nel suo libro ci spiega, cioè nella chiusura al suo libro ci spiega come lo Stato, come la nazione, l'Unione Sovietica, che più di ogni altra contribuì alla vittoria nella Prima Guerra Mondiale, si incartò per colpa dell'ideologia, per colpa del sistema politico inefficiente che la reggeva, si incartò nel mantenere un ruolo che non era in grado di mantenere, al posto di indirizzare la società verso una maggiore eguaglianza sociale, di indirizzare la società verso un'economia più efficiente, rinunciare, insomma, magari ripescando la famosa NEP di leninista memoria, o ripescando, o come dire, creando una sorta di borghesia che tenesse sulla baracca, avrebbero, sarebbe stato sicuramente, insomma, l'Unione Sovietica, forse sarebbe ancora in piedi, paradossalmente, c'era un uomo che stava pensando a riforme economiche e politiche in senso liberale in Unione Sovietica, ma se vi dico chi è non ci credete. Sapete chi è che voleva indirizzare relativamente, in maniera relativa, ripeto, l'economia e la struttura politica dell'Unione Sovietica verso blande forme di liberalismo economico e politico? Beria! Sì, sì, signori, Beria, Beria, il fedele mastino di Stalin, l'uomo senza anima, lo spietato carnefice delle purghe, stava progettando una riforma, paradossalmente, insomma, siamo sinceri, Beria era un uomo senza anima, Beria era una spaventosa carogna, Siamo sinceri, Beria era un mostro, ma era un uomo estremamente intelligente e molto capace e seppe avere la lungimiranza di capire che alla lunga il sistema sovietico, con la sua faraginosità, le sue falle, la sua incapacità di provvedere ai bisogni del popolo, Beria aveva intuito che il sistema del comunismo o dello stalinismo, perché siamo sinceri, Stalin non è tanto che fosse comunista, Stalin ragionava in base al potere per il potere e chi se ne frega del popolo, come tutti i dittatori, chiamiamolo col suo nome, Stalin era un dittatore abile, furbo, spietato, crudele, paranoico, intelligente, sagace e completamente privo di scrupoli. Difatti è uno dei pochissimi dittatori a essere morto nel suo letto. Dicevo, Beria, Beria aveva da politico intelligente, allora escludiamo come dire il suo ruolo, la sua totale e assoluta amoralità, il suo essere completamente privo di scrupoli, il suo essere un assassino spietato e crudele, perché Beria era quello, ma Beria era anche un uomo intelligente che aveva capito che l'economia, che l'Unione Sovietica come sistema prima o poi sarebbe collassata e lo fecero fuori prima che potesse mettere in atto le sue idee. Avrebbe funzionato? Non possiamo saperlo. Però sappiamo com'è andata che per i 50 anni successivi alla vittoria della Seconda Guerra Mondiale l'Unione Sovietica e il blocco orientale del patto di Varselvetuto entrarono in una irreversibile spirale di stagnazione, di oppressione, di paranoia, perché tanto, insomma, signori, trovatemi qualche cosa di più paranoico del KGB brezhneviano degli anni 70-80. Insomma, signori, credo che sia abbastanza difficile trovare qualche cosa di più devastantemente paranoico rispetto al KGB di quegli anni. La CIA degli anni 50, forse, ma vabbè, lasciamo stare. Dicevo, Travolto dal suo stesso peso il sistema sovietico che non era stato in grado di sfruttare come gli alleati occidentali e gli ex nemici dell'asse la vittoria l'Unione Sovietica crollò sotto il suo stesso peso. Naturalmente, come spiega bene Overi, i perché del crollo dell'Unione Sovietica sono tanti e molteplici. Ed è errato, come spiega Overi, ripeto, pensare che l'Unione Sovietica sia caduta solo per aver vinto la Seconda Guerra Mondiale e aver voluto campare di rendita sulla vittoria nella Grande Guerra Patriotica. Diciamo che il comunismo sovietico, i paesi del socialismo reale, non furono in grado di guardare oltre l'ideologia. L'ideologia, la cecità ideologica che aveva accecato, che aveva letteralmente bloccato, chiuso in un sarcofago di furore, rabbia, ignoranza, ideologia, razzismo e violenza, le potenze dell'asse fecero, l'Unione Sovietica fece la stessa fine, cioè si rinchiuse in un atteggiamento militarista, giocarono a fare la superpotenza senza poter, come dire, mantenere lo status da superpotenza, se capite cosa voglio dire, soffocati da un sistema che appariva monolitico, potente e indistruttibile, ma che in realtà aveva fondamenta decisamente fragili. Ripeto, Overy dice che il lasso di tempo intercorso tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il crollo dell'Unione Sovietica e dei paesi del patto di Varsavia, la fine del blocco comunista, dicevo, è troppo ampio, insomma, si parla di quasi cinquant'anni, insomma, signori, ok? Ma, ma, è indubbio che la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale non sia, non sia stata sfruttata dall'Unione Sovietica come un'opportunità per crescere. Si badò soltanto al militarismo, si badò soltanto alla rincorsa agli armamenti, si badò soltanto ad una politica estera basata sulla chiusura, sulla paranoia, basata sul più totale oscurantismo. Siamo sinceri. Insomma, signori, che vi posso dire? le parole di Overy sono estremamente chiare e se leggete questo libro sicuramente converrete con me che la fine dell'Unione Sovietica era solo, come dire, questione di tempo. Ci vollero più di cinquant'anni, insomma, ci vollero più di quarant'anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma come aveva previsto Beria, il sistema sovietico, il sistema del socialismo reale collassò malamente su se stesso, soffocato dalle proprie debolezze, soffocato dalle proprie ipocrisie ideologiche, soffocato dall'incapacità di badare ai bisogni materiali del popolo, soffocato da una propaganda a cui le elite stesse credevano fermamente, mandando tutto quanto a ramengo. tutto qui. Quindi, cari signori, come sempre, la lettura di questo libro è caldissimamente consigliata e, come sempre, cari signori, aspetto i vostri commenti, come sempre, aspetto le vostre opinioni e i vostri paeri, come sempre, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao!